75 giorni di sospensione per il Papi Beach, il locale pordenonese in cui si è sviluppato un focolaio di Covid-19 a causa del quale 55 persone avrebbero contratto il coronavirus su circa 300 partecipanti. La festa si era svolta lo scorso 17 luglio e oggi, a distanza di quasi due settimane, il questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha deciso di chiudere il locale. A seguito degli accertamenti delle forze dell'ordine che avevano sentito una ventina di giovani che avevano partecipato alla festa, sono emerse gravi mancanze nel rispetto delle norme anticontagio. Si parla di assembramenti all'esterno del locale, mancato utilizzo delle mascherine una volta dentro e balli senza alcun controllo da parte dei gestori. Durissima la reazione del gestore del locale anche alla luce della notizia che il questore ha chiesto al sindaco Nadal la sospensione della licenza. Il titolare precisa che quella del 17 è stata la prima e unica serata di apertura di quest'anno. Il locale 2700 metri quadri di superficie il 17 luglio ha ospitato nemmeno 300 persone a fronte di una capienza di 1000, tutti all'aperto. I tavoli erano stati disposti in mezzo alle piste in modo da non far ballare nessuno e il titolare assicura che è stato fatto tutto il possibile, compreso l'ingaggio di tre infermieri professionisti per misurare la temperatura agli ospiti. In attesa di poter presentare il ricorso contro la chiusura, il titolare del Papi Bici ricorda con amarezza di non essere stato mai contattato né dall'autorità pubblica né dal questore, che ha subito optato per una chiusura che di fatto chiude una stagione mai iniziata.